Cosa vuoi ascoltare? Dobbiamo calcolare che poi c'è l'effetto, no? Sì. Vai, provo a rifarlo. Cosa vuoi ascoltare? Bella. Sono delle frasi, no, sono una persona. Ogni riga... Ma quando c'è la sala di questi qua? Tutti i giorni dell'anno. Sant'Antonio. Sì, sì. Primo. Gradi. Numeri da 0 a 59. No, scusa. Non è tutto. Proprio l'entrame, i numeri, i numeri, i numeri da 0 a 59. Quello è 1, 2, 3, 4, 5. Non capito che eravamo davanti, ma così non me lo immaginavo. Allora, l'attimo solo, prima che... La stessa cosa anche per... Lettere dalla A alla Z... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dicembre, ottobre. Ho ripetuto, mi sembrava di averlo detto con 2B. Va benissimo. Comunque direi che è molto più distaccato così, no? Come... Ecco Dio, mettere calore in questo è difficile. Ok. Da lunedì a domenica, l'abbiamo detto? No, 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 no. Lunedì, martedì, mercoledì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Domenica. Belli, ti vedo in gran forma, dico. Ragazzi, vi vedo un po' fuori forma, perché non ci facciamo un bel fix? Perché è il fix? Perché è il fix? No, io guardando per divagare la Fox Fax, per me è uguale. Non è la droga fix. Siamo disponibili per matrimoni, fiere, videoriprese, servizi fotografici, feste, eventi, compleanni, insomma per ogni occasione speciale, se vuoi, non possiamo, se vuoi, noi possiamo esserci. Funerali. Funerali, morti, fratture, indigestioni. Prevento l'acqua, qualcuno la magna domani sì. Oh, beh, l'acqua è scaldata. Eh no, ma peggio che sudo. Domenico, lascia che sia io a spiegare cos'è il Team Nervoso Evans e di cosa ci occupiamo. Con me e il DJ si organizzano serate a tema anni 80 e con il General Lee serate country con musica dal vivo e corpo di ballo. Team Nervoso e Maffi DJ. Team Nervoso e Maffi DJ. I numeri uno nel settore animazione e spettacolo. Ve lo posso garantire. Può accompagnare solo... Può accompagnare solo. Ma questa gliela devi spiegare. Questa, questa la spiego. Può accompagnare solo. Ma solo nel senso di solo. Può accompagnare solo. Può accompagnare solo. Sì, 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 ok. Team Nervoso e Maffi DJ. I numeri uno nel settore animazione e spettacolo. Ve lo posso garantire. Può accompagnare solo. È giusto così. È giusto, è giusto. Cosa facciamo? C'era una botta pure in quello. Sì, esatto. La rifacciamo. Team Nervoso e Maffi DJ. I numeri uno nel settore animazione e spettacolo. Ve lo posso garantire. Può accompagnare solo. Può accompagnare solo. No, no, mi dispiace. Non sono kit dei telefilm. No, mi spiace. Non sono kit dei telefilm. Negli anni Ottanta era tutto finto. Ora, come potete vedere, sono qui in ferro. Microcircuiti e tecnologia di ultima generazione. No, mi spiace. Non sono kit dei telefilm. Negli anni Ottanta era tutto finto. Ora, come potete vedere, sono qui in ferro. Microcircuiti e tecnologia di ultima generazione. su Facebook abbiamo il gruppo Team Nervoso oppure la pagina Kit e il generale per ogni tuo evento speciale il generale su Facebook abbiamo il gruppo Team Nervoso oppure la pagina Kit e il generale per ogni tuo evento speciale naturalmente il profilo del presidente è Foti Domenico i componenti del gruppo ovviamente sono io, Domenico il generale, Jessica, Maffi e le nervosine abbiamo anche una strada bevanda abbiamo anche una nostra bevanda Cisecco Energy Drink lei e Jessica lei e Jessica il tuo unico lei e Jessica il tuo unico e grande amore naturalmente anche il tuo costante calmante di vita per uno nervoso come te può accompagnare solo solo che ci stupirà con i suoi prodotti c'è il nostro amico Marco con le sue profumerie che ci stupirà con i suoi prodotti la mia banca dati è ben fornita so parlare in tutte le lingue in tutti i dialetti del mondo quindi quindi il Leccese lo conosco benissimo avendo te come capo poi Salento lo sole lo mare lo iento Salento lo sole lo mare lo iento ci facciamo desciamo o pettiniamo le bambole ci facciamo desciamo o pettiniamo le bambole bravo è lui è lui è una specie di veneto adesso se hai dimenticato di scrivere devi dire C-secco C-secco si hai dimenticato è distratto ragazzi C-secco dove è? no te lo dico io perché è la sua frase tipica ah va bene me lo dico in italiano un paio di cose C-secco 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 va bene così ce l'hai ma ti scordi proprio quella è la più importanza ok andiamo abbiamo finito eh sono in Night 2000 una super macchina per me ho la capacità di invitare a un so ci siamo finiti o ce ne so